Devo dire che finora il tour è stato molto soddisfacente per il Manchester United, è stato organizzato molto bene e ci siamo divertiti. Anche le partite sono state molto belle, l'allenamento, le strutture. Mi rendo conto che può essere stata dura per molti giocatori stare lontano dalle proprie famiglie per tre settimane, ma la società ha fatto tutto il possibile affinché tutto andasse per il meglio e finora ci stiamo divertendo molto. Quest'anno ci sarà grossa concorrenza per il titolo in Premier League, ci sono nuovi allenatori, nuovi giocatori e questo renderà la stagione interessante. È un grande cambiamento ma lo spirito agonistico sarà comunque molto alto. Pensiamo a squadre come il Chelsea, l'Arsenal, il Manchester City, il Tottenham, ma anche altri club come il Liverpool e addirittura l'Everton. Queste squadre daranno filo da torcere. La prossima campionato sarà molto avvincente ed esserà molto interesse non solo nel Regno Unito ma anche in Asia e in Scandinavia.